Ad un anno dalla scomparsa è ancora forte il ricordo in tutta la comunità di Castelli di Enzo De Rosa, primo cittadino del piccolo comune Teramano per due mandati. Il professore, oltre a svolgere con passione il suo ruolo istituzionale di sindaco, è stato anche un alto rappresentante dell'arte della ceramica che ha reso famosa Castelli nel mondo, apprezzato soprattutto per i suoi paesaggi. Nei dieci anni alla guida della comunità castellana, De Rosa ha fatto sì che il borgo fosse inserito nell'esclusivo club dei borghi più belli d'Italia, oltre ad aver portato delle innovazioni nell'arte ceramica, come l'ideazione dei decantere e dei bicchieri da vino in ceramica, e la scoperta storica e più recente delle ceramiche per cioccolato e caffè. Quest'ultima in particolare ha portato all'inserimento di Castelli nel percorso culturale europeo The Chocolate Way, poiché al borgo è stato riconosciuto il ruolo di unico produttore di chicchere e portachicchere per la degustazione di cioccolato e caffè, che nei circoli aristocratici italiani cominciava a verificarsi già nel 1680.